Reparto nevralgico tuttora carente di una mezzala a tutto campo, forse anche di un play puro, squizzato, sembra più adatto a ricoprire il ruolo d'interno. Tornando alla mezzala, molto probabilmente Michael Kisley non vestirà il biancazzurro dopo un'attenta valutazione di comune accordo con Zeman, Delicarri è deciso di non insistere. Tra l'altro non sarebbe stato neanche facilissimo convincere l'ex Perugia a scendere in Serie C. Ingaggio oneroso, 250 mila euro netti, soprattutto la flessione negli anni di una promessa di fatto non mantenuta. Kisley, 24 primavera e proprio oggi, ha dato finora il meglio di sé solo col Perugia. Storia di cinque anni fa, stagione 2018-19, in più è fermo dallo scorso marzo. Tra i candidati resiste il 34enne Scarsella del Vicenza. Per contro, molto complicato assicurarsi le prestazioni dell'italo-albanese Ndoi, legato al Brescia, per un'altra stagione. I Lombardi sono in attesa dell'ufficiale riammissione in Serie B, avverrà dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che si riunirà martedì prossimo, 29 agosto. Smentite sull'islandese ex Foggia Bjarkason, che in realtà non è in uscita dal Venezia. Intanto, il giovane promettente difensore del Bologna, Riccardo Stivanello, altro piccolo tormentone estivo, è stato ingaggiato dalla Juventus. Non ci sono più dubbi, come tra l'altro anticipato sul nostro sito www.reteotto.it, lo scorso 23 agosto. Sempre più concreta l'ipotesi che mora resti per un'altra stagione a Pescara, il 35enne ex Spal pare essersi convinto. Tra una settimana esatta scatterà il campionato. Sabato 2 settembre i Biancazzurri debutteranno all'Adriatico, ore 20 e 45, contro la Juve Under 23. Zeman non potrà contare su Vergani, che rientrerà gradualmente all'inizio della prossima settimana, e soprattutto su Tommasini, che causa infortunio muscolare, resterà ai margini per i prossimi 20 giorni.